Ci troviamo a Bucchianico, oggi è lunedì, gara di campionato categoria giovanissimi Girone Chieti, è la terz'ultima gara di campionato, ci troviamo a Bucchianico, l'incontro di calcio, Bucchianico calcio Virtus Castelfrentano, giovanissimi, qua vediamo i ragazzi che partiranno dalla panchina, il giovanotto con la tuta oggi è in versione guardalinee, Karan Singh, vediamo Enrico col numero 13, Luca col numero 14, Nicolò col numero 17, 15 Alessio, 18 Bartolo, dopo ci abbiamo accompagnatori, c'è Ferretti con la divisa giallo-blu di allenamento, là in fondo vediamo i due portieri, titolare Matteo d'Ottavio col numero 1 e 12, dodicesimo c'è Daniel Ucci, a questo lato c'è la squadra che partirà titolare, gli 11, è la ripresa questa, ecco i ragazzi, questi sono gli 11 che partiranno titolari, numero 1 Matteo Francesco d'Ottavio, numero 2 Lorenzo Cuniberti detto pitbull, numero 3 Federico Tucci, numero 4 Guido Colaizzi, numero 5 Gabriele Donofrio, numero 6 Cristian Nasuti, numero 7 Gian Leonardo Emanuele detto lele, numero 8 Nicola Perrucci, numero 9 Gianluca Malbone, numero 10 il Messi della squadra Michele Daniello, numero 11 Teidi Mata il capitano, il vice capitano come già ho detto è Gabriele Donofrio, in panchina dodicesimo Daniel Lucci, tredicesimo Enrico Caporale, quattordicesimo numero 14 Luca Rulli, numero 15 Alessio Ceroli, numero 16 Caporale Emanuele, il 17 Nicolò Dancero, il 18 Bartolomeo Cirillo detto Bartolo, il mister è Gabriele Di Felice, la prima gara senza la barba, adesso c'è il viso candidato e pulito, il dirigente accompagnatore il sottoscritto Cavaliere Carlo Iocco, il guardaline è Karan Singh, ecco i nostri ragazzi, ecco si stanno riscaldando,